Oggi si inaugura questa bella iniziativa, è una mostra che si intitola Non chiamatemi morbo, dedicata a coloro che sono stati colpiti dal Parkinson. È una mostra itinerante che legge tutta l'Italia, tocca parecchi capologhi di provincia e quest'anno abbiamo avuto anche il privilegio che tocchi anche il nostro paese, rimarrà aperta da oggi domenica 30 fino a sabato 12. È una mostra itinerante, parlante, fotografica dove attraverso 40 immagini e attraverso un QR si possono rilevare tutte le storie raccontate da Claudio Visio e Lella Costa e sono esperienze che riguardano ragazzi giovani, ma anche anziani, commercianti, qualche cantante, anche qualche bravo imprenditore. Lorenzo che è stato nostro compaesano, per 26 anni è vissuto a Costa, ha fatto un impresa incredibile qualche mese fa ed è stato anche accolto dal Papa. Questa storia, che adesso magari brevemente vi dirà, sarà poi anche rappresentata in un'immagine che sarà anche questo itinerante dei prossimi settimane in giro per tutta l'Italia. Devo ringraziare la Regione Veneto, la provincia di Lovigo e tutto il Consiglio Comunale di Costa, l'Associazione Confederazione Italiana Parkinson, ovviamente Lorenzo e la sua famiglia per averci privilegiato di questa bella iniziativa. Prego. Per me è un onore ritornare agli origini, è un po' come torno a dire il vecchio film, ritorno al futuro. Sono ritornato, ho avuto la possibilità di trovare un'accoglienza da parte degli amici, perché non posso dire, mi spiace non dare il loro istituzionale, però per me è un amico come tutti gli altri che avevo trovato, più che un amico fedele, perché abbiamo vissuto delle giornate e dei momenti insieme che sono difficili a cancellare. E oggi mi ha dato la possibilità, attraverso questa mostra fotografica, di far vedere altre persone che soffrono lo stigma del Parkinson, ma non solo le persone ammalate di Parkinson, questa mostra vuole anche toccare quelle persone che non sono ammalate di Parkinson, ma che vivono il drama della solitudine lasciata da un po' a volte dai familiari perché non riescono a condividere la malattia. Quindi al Dharma si unisce la solitudine, l'abbandono. Con questa mostra si cerca di tirare fuori dalle mura domestiche tutte quelle persone che vivono il drama e se in questo mio viaggio sono riuscito a suonare qualcuno, mi dite che sono riuscito nel mio intento. Se non ci riesco ci provo ancora, è una serie di segno disperata per tutti gli altri.